Le associazioni Libere e Lega Ambiente con due iniziative congiunte fanno sentire la loro voce in sostegno dell'avvertenza contro l'impianto della centrale a biomasse che Power Crop Gruppo Maccaferri intende realizzare ad Avezzano. Un impianto che da anni fa i conti con l'opposizione del territorio, insostenibile, dicono le associazioni, sotto il profilo tecnico, ambientale, sanitario ed economico. Le iniziative sono state presentate a Pescara nella sede di Lega Ambiente. Durante l'incontro sono state ricordate le due risoluzioni approvate dall'intero Consiglio regionale sulla centrale a biomasse di Avezzano che ponevano l'attenzione su due specifici punti. L'approvazione definitiva del piano di assetto naturalistico della riserva del Monte Salviano e la revisione del parere rilasciato dal Comitato Via nel 2010 alla luce delle criticità emerse nell'iter progettuale dell'impianto. Da quell'intervento congiunto delle due associazioni volto a superare l'impasso in atto. Lega Ambiente, ha spiegato il Presidente regionale dell'Associazione Giuseppe Di Marco, ha presentato una diffida al Comune di Avezzano e alla Regione Abruzzo perché concludano e definiscano il precedimento di approvazione del piano di assetto naturalistico della riserva naturale regionale del Monte Salviano, al palo da troppo tempo. Sicuramente il piano di assetto naturalistico della riserva definisce ciò che può essere realizzato o non realizzato su quel territorio e esclude impianti tipo power crop. È un piano che si sta attendendo da diversi anni. La riserva è stata istituita nel 99 e siamo in ritardo e la nostra azione è volta proprio a sollecitare le autorità competenti affinché chiudano rapidamente il piano in questa direzione. Libera, ha chiarito il referente per l'Abruzzo, Angelo Venti, ha depositato un esposto denuncia contro il dirigente della Regione, l'architetto Antonio Sorgi, per aver presieduto il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione, che nel giudizio numero 1559 del 7 settembre 2010 ha espresso il parere favorevole con prescrizioni per la realizzazione ad Avezzano della centrale Biomasse PowerCrop della potenza di 93 MW. Noi abbiamo presentato un esposto denuncio alla magistratura invitando ad indagare sul ruolo del presidente del Comitato Via, che ha dato il via al progetto perché secondo noi non c'erano i presupposti per cui lui poteva presiedere quel comitato, si doveva comunque a tenere. Anche perché ci sono tutta una serie di prove documentali, testimoniali, anche intercettazioni telefoniche, su cui la magistratura dovrebbe indagare, nel senso, testimoniano il ruolo del Sorgi, sia che come funzionario pubblico, parrebbe favorire le società che poi lavorano i progetti di cui si doveva occupare. Nell'esposto denuncia, Libera richiama fatti e documenti che obbligavano Sorgi ad assenersi dal prendere parte, in qualsiasi veste e ruolo, dalla procedura via inerente al progetto PowerCrop di Avezzano. Grazie.